Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Sono qui a lavorare ancora con le mie logistic pipes main Sono ancora qui a lavorare con le mod Perché sto cercando di finire tutti i filtri Dovano tantissimi filtri da fare ragazzi Tutta sta roba, adesso la schiaffo tutta qui dietro Sploso Ok, mi servono anche degli altri quicksort moduli Che dovrei avere, sì, tre quicksort E li metto tutti qua Uno, due e tre Perché essendo default rotto ragazzi Devono essere come questa cesta, quindi devo avere anche dei quicksort Ovviamente non è che p e buti là a caso quello che succede Succede E c'è un altro però, un altro modulo Dove è andato? Il mod base da demsync, non mi dico che me l'ha già aspirato Quindi sarà arrivando qui immagino Eccolo, grazie Grazie mille Questo mod base ci metto, in questo caso E sai che ci metto la mine factory Giusto, la mine factory ha bisogno di smistamenti Vediamo un po' Beh, giusto la red Chi se ne frega Se metto la bullcraft Mettiamo la bullcraft Bullcraft Oh Ma dove vanno? Oh, impazzite proprio Vieni qua Ah, bullcraft Factory add Ah, ovviamente mi sa che la bullcraft si divide in più mod Eh, quindi può darsi che dovremmo richiedere qualcos'altro Ma vediamo Tipo questa qua Questa mi sa che è bullcraft transport Una cazzata del genere Vieni un po' Sì, bullcraft transport Madonna ragazzi Mi ricordo tutte le mod Che problemi ho Mi sento scemo Ho dei problemi mentali e psicologici Devo fare altre chest Sì Altre chest per altre mod Devo allungare ancora l'impianto Devo allungare il brod Devo sistemare Devo potenziare Devo Tutto Vi sparite Uh, va bene Che facciamo in questo video? Allora, quanto diamanti siamo arrivati? 29 Un po' pochino Sinceramente mi aspetterei di più Siamo a 34 diamanti Posso giusto farci un pochettino di quarzo Ma manco tanto Sinceramente Che schifo Non parla dell'oro Quanto ne ho di oro? L'oro ce n'ho un pochetto Sì, oro sì Vabbè l'oro è diminuito Adesso servono 4 diamanti Il diamante adesso è diventato il problema In effetti ci sta come problema 24, 25, 26 Eh, ci stiamo accumulando un po' di quarzo Dai ragazzi, magari ci scappa un altro disco da 16k Non sarebbe una cosa brutta, eh Mi servirebbe Ok, qui abbiamo le me Qui abbiamo la logistic Dai, bellissimo ragazzi Bellissimo, bellissimo, bellissimo Questa roba Via Tutto schiaffato qua dentro a buffo Tanto abbiamo le nuove default rotte Che ci hanno da un sacco di backup, ragazzi Io quello lo chiamo backup Perché in effetti è backup È il backup del mio inventario Dove posso storaggiare temporaneamente gli oggetti Però vedete qualche problema di Oh, questa roba mia Qualche problema di stagno Io lo stagno non l'ho ancora messo come filtro Però non arriva Boh, il quarry dovrà essere arrivato Ad altezza stagno, spero Ancora no Boh, qui ancora arriva cobblest Vabbè, lasciamola arrivare Ok Comunque, che facciamo in questo video? Prima di tutto prendo I frame del Tesseract Che ho lasciato a riempire E faccio dei altri Tesseract liquidi Liquid No, Tesseract Tesseract Ok, abbiamo anche il Tesseract Della Industria Ma è un po' più difficile da captare Cioè, voglio tipo le piastre di titanio E tutte queste schifezze qua Ah, va bene Prendo questi Tesseract liquidi Comunque Perché devo prendere Il, come si chiama Battere la pesca laggiù L'idrogeno E mandarlo dentro un tank Perché ancora noi abbiamo dedicato un tank Ragazzi Eh già Ma c'era un tank libero Non mi dico riempire tutti i tank Ok, questo potrebbe essere un problema È vero, non ho un tank libero Cacchio porcaccia Dobbiamo andare a vedere Vabbè, intanto facciamo Il Tesseract liquidi Ok, si fa il pneumatic servo Tutte quelle schifezze là Rame Ah, ma se li faccio così Proviamo Lo faccio Aspetta Eh, dov'è Tesseract liquidi Tesseract Beh Ha E se richiedo la roba così Ah, mi manca un pneumatic servo Due tin ingot Uno, una tunnel Tesseract Due silver Un copper Come mi manca il silver? Ah, effettivamente Perché sta qua dentro il silver Non è filtrato Eh Eh già ragazzi Ficata Ok Una tunnel Tesseract ce l'ho Il copper è arrivato Il pneumatic servo pure ce l'ho da qualche parte Qui, dalla Dermal quindi No Manco per il cacchio Ma non ho pneumatic servo? Serio? Serissimo? No, ce l'avevo Dai, ma sta a far prezioso Sta a far prezioso Dimmelo Che sta a far prezioso Che te capisco Non sto in modo qua dentro Ah C'è sto macello qua Vabbè, facciamo Craftiamolo Dov'è il problema? Permanatic servo Dove stai? Qui? Non R lì R qui Qui R No Richiedi Che figata ragazzi Ancora? 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 Ok, ho richiesto tanta roba per fare 4 pneumatic servo Che figata Mi piace sta cosa Eh Dovrebbe arrivare a momenti Dovrebbe essere già arrivato No, ancora non è arrivato Redstone Redstone Eh sì, effettivamente Redstone è un po' lontana Devo accorciare le strade sotto Andiamo a accorciarle? Andiamo a smanettare sotto Aspettate, aspettate Che mi diverto a smanettare Piano di sotto Allora, le cose che devo spostare Sono i tubi Devo accorciare le distanze Come faccio? Perché? Il problema qual è ragazzi? Se io richiedo un blocco che sta qui Ad esempio qua L'acciaio Il ferro qua Deve arrivare lì Tornare qui Arrivare laggiù Tornare qui Arrivare laggiù Tornare qui C'è un casino Se facessi tipo di tunnel qua sotto Che tagliano Adesso non si vedono Stanno sotto Qua Proprio qui, guardate Così Eh, se risparmierebbero tutto il su e giù Andrebbero diretti così tagliando, no? Molto più comodo Allora, faccio anche con le altre zone Anche qui Che ne dite questa? Hai idea per abbreviare le distanze? Ma sinceramente mi piace questa Hai idea Ok, posso chiudere Figato, ok Mi piace, mi piace, mi piace Se può fare Un'ottima idea sul momento Che mi è piaciuta Grande Xander Continua così Non lo dico da solo 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ora Abbiamo accorciato di brutto le distanze, ragazzi Adesso abbrevieremo anche Ah, qui non l'ho fatto Cacchio, mi servono anche qui Servono altri tubi Ho finito tubi di cobblestone, ragazzi Pensate quanta roba sto costruendo Che assurdo tutto ciò Non ha molto senso, ma ok Va bene No, no, ragazzi Casa prende forma Pensate che un giorno sarà tutto gestito Dalla upgrade direttamente Dalla upgrade logistica Ficata Perché queste arancioni? Si sta riempiendo Sto riempiendo un disco di 16k da carbonella Mi serve uno da 64k Prima possibile Che figata Talla roba della logistica che viene qui Mi piace sta cosa Mi piace Guardate che figo Che figata Che figata Ok, che è tutto Ah, pure la Railcraft tocca da un filtro La Railcraft non me la devo ricordare Qui invece che è rimasto? Non mi stai È poca roba Forestry Railcraft e Forestry Stupidaggini comunque Dai Craftamo Sti test Era qua Com'era lì? Ah, il tin ce l'ho dentro al disco Mi sono scordato di sta cosa Molto dettagliata L'ha messo tin Che babbo che so Ok Il tin ce l'ho Posso craftare, giusto? No Non posso craftare Perché? Where is the problem? Ah, perché il tin non è quello che ti piace Scusa Scusa Qual è il problema? Ah, scusa Il silver non è quello che ti piace Scusa No, no, ma scusa Non lo faccio più Promesso, promesso Voglio un copper Mandami sto copper Lo rompo le palle Allora, sto liquidi Si raccolta da mente Subito nella zona tank Aspetta che prendo il carrellino Vorrei Vorrei prendere il carrellino Anzi Ce l'ho ancora un carrellino Da qualche parte Grazie Un carrellino, grazie Oh, che carino Grazie Bello Andiamo a piazzarlo E mi porto pure un po' di blocchi di marmo Almeno da una sistemata a quella zona Adesso me lo faccio off camera Tranquillo Non vi sdrumo i cosiddetti Dove cacchio stanno i blocchi di marmo 28 solo Me ne serve un po' di più Request Marmo Dammi marmo Dov'è? Marble Famo Ma che è uno? Me ne serve 5 e 12 Sì, vai Bam Ok Il ram Il sirve se ne va Il tine se ne va Il ferro se ne va Il legno se ne va E il ferro me lo riprendo Mi sa? Il ferro me lo riprendo perché mi servo, sai? Il ferro me serve Non 5 e 12 Ma 128 mi riprendo del ferro Grazie Ok Intanto me prendo il marmo Allora Con il ferro Ci devo fare Il Quegli affari nel lì Quegli affari nel lì Che però richiedono Mi serve il Liquid Fluid Con cacchio si chiamava Liquid Liquid, sì Liquid Eccolo qui Liquid sensor kit Perfetto Devo craftarli Dammi un po' No, dov'è? L'ho perso di vista Ecco qui Allora mi serve questo qui Si crafta così E ce l'ho la roba 1, 2, 3, 4 5 Quanti preservo? 6 Magari so tanto per E facciamo staffare Voila E non va Che mi manca? La carta You are missing Sì Mi are missing Intanto esplode qualcosa Perfetto Aspettiamo la carta che arriva Craftiamo sti cosi E andiamo alla zona tank Ma dove l'ho messo il mio Cisellatore? Ce l'avevo Cisell Torna qui Oh bello di papà Ma se è casino qua dentro Però eh Potresti pure Da un po' d'ordine Xander Oh guarda che c'è Un redstone chipset Questa è della bullcraft Però perché non me lo aspira? Perché di un'altra è della bullcraft parts Qualcosa vero? Bullcraft Eh silicone Cacchio mi frega sempre Bullcraft silicone Ok perfetto Questo ok Industrialcraft Non ci frega niente Questo non sta aspirando Perché GG Vi viva gli impianti Pro skillet Che io faccio E lo sapete che faccio? Dato che Occupa poco spazio la bullcraft Io la condivido con la railcraft Bullcraft e railcraft Insieme Tanto vanno a braccetto Cioè praticamente fanno parte della stessa Capito? Bullcraft e railcraft Add Seggiungo pure a railcraft Vai Tanto sono due mod Perfettamente sincronizzate Fra loro In sintonia Innamorate Fatte l'uno per l'altro Dai capito Non ho inteso Ok quindi ci andranno anche tutte le piastre Mmm Le piastre forse non ce le vorrei là dentro Vabbè poi facciamo il filtro Che non le vogliamo Poi ci mettiamo poi Ci metterei anche la forestry Lo sapete? Non è sbagliata come cosa eh Bullcraft Forestry e railcraft Finalmente insieme Le tre mod Sorelle Fratelle E coniugate Wow Sta cesta va tolta da qui Perché i tubi devono salire e scende Devo togliere tutto sto schifo Questa la posso togliere ragazzi Questo è un passo avanti Il tubo che scende Posso collegarlo Vabbè Andiamo a mettere sta roba Andiamo Andiamo Prima che mi dimentico Ah aspetta Che c'ho lì? Il sodio Il litio E il metano Giusto Fammi controllare Metano Sodio E il litio Sì Ah È successa un'altra cosa ragazzi Il pozzo di petrolio Ha finito di pompare Andiamo a vedere che cacchia è successo a sto tank del petrolio Quanto petrolio è estratto più che altro Non vorrei che fosse esploso Cioè non vorrei che avresti superato i 20 milioni Avessi perso del petrolio In teoria non succede Perché un pozzo di petrolio da 20 milioni È tipo il best pozzo dell'universo Però dettagli Ok infatti non mi carica il cacchino Però ecco Quanti milioni erano? 11,8 milioni Però quello è tutto a posto Ok no Ancora due tank vuoti Perfetto Uno lo posso dedicare tranquillamente all'idrogeno Certo potevo dare una frequenza all'idrogeno O glielo ho già data? Oh mi ricordo mica Andiamo là e mettiamo sto tesseract qua No non glielo ho ancora data Ok Abbiamo scelto 17 e 18 per l'olio E faccio 19 Per Hidrogen In Più Ok E poi mettiamo anche la 20 Che sarà Hidrogen Hidrogen Out Perfetto Abbiamo impostato la 19 e la 20 per l'idrogeno A bestia ragazzi Ok adesso mettiamo un liquid sensor kit Questo tank Ok che non c'è nulla Però lo mettiamo lo stesso Questo che è del petrolio e ci serve E questo che non c'è nulla Ma lo prendiamo lo stesso Non ci frega niente Perché almeno Sappiamo quali tank abbiamo disponibili No almeno io vado lì a casa E mi dice tank vuoto Disponibile per qualunque liquido Almeno io lo so no Fra poco da lì arriverà Che cacchio era Fra poco lì arriverà l'idrogeno E segnerà l'idrogeno Adesso non me lo segna Se io adesso lo attacca a casa Vedrò dire tank vuoto E almeno so che anche lì c'è un tank vuoto Figata sta cosa eh Ma vi affumento proprio Tutta casa progettata e studiata Per essere gestita Regolarmente da qui Senza problemi Senza creare disagi Ok mi servono altri range upgrade Com'è che si faceva Non mi ricordo mica Range upgrade Sì ragazzi Poi più che altro Un'altra cosa che vorrei fare Vaffanto devi andare Un'altra cosa che vorrei fare Che cosa ho qui Come si chiama Dai raga aiutatemi La digital chest Ricordate che volevo fare La digital chest Non so 14 15 16 17 17 Perfetto Eh la digital chest Solo che l'avevo lasciata un po' sospeso Ok perfetto 20 range upgrade Sono più che sufficienti Me ne servono 5 l'1 Dove posso metterli? Eh Beh potrei lasciarli qui Però metterli un po' più larghe e spaziosi In modo che ci stanno Meglio moschiatta Stupido il zombie Tipo Il sodio lo sposto Occupa 2 2 Perfetto Sì spostiamo il sodio intanto Sodio vieni qui Mi servi Oh Non è nata la roba Oh regà Ma l'ho già raccolta Ah si l'ho raccolta Ok nice Eh Altri pannelli Dove li ho messi? Da ste parti qui Mi pare Ok Mettiamo Un panel extender Per il litio Nice Mettiamo Altri due Advanced panel Uno qui Sì vabbè cercando di non sfasciare tutta casa magari Aiuterebbe E uno qui Però mi limita a 4 Io ne ho bisogno di 6 Questo potrebbe essere un problema pensandoci bene Potrei metterne 4 di qua e 4 di là Sto punto Altri due di qua Come è allineato? Qui Uno E due Non è sbagliata come cosa eh Allora la forma Li metto come avevo fatto di là Rivolte in avanti Giusto? Giusto così No non è così È quest'altra È così Perfetto Rivolte verso di me E ci metto l'extender Ok Qui dentro ci mettiamo una carta qualunque La chiamiamo Non so che c'è scritto Niente non è cessa perché dobbiamo mettere range upgrade Range upgrade Uno due tre quattro cinque Online E qui abbiamo l'olio Perfetto Cominciamo oil Ma alla fine non è necessario Perché alla fine No no è più figo così Olio Name oil E se lo chiamo tipo petrolio Quello metto in italiano e sotto c'è scritto name oil Ma se ne metto due Oddio ragazzi con due viene una cosa enorme No preferisco un singolo e fare vari vari cosi Almeno lo leggo da così Perché è inclinato Potrei metterlo tipo a pannello grande Tipo a schermo Che lo però devo guardarlo da lontano Sembra un cinema Così invece so proprio Li vedo così no Metano litio Meglio così Meglio così Mi servono altri di quelli extender Lo sapete Ma che si chiamano Extender Che si chiamano Me ne servono altri Craftiamoli Craftiamo Craftiamo Ce l'ho la roba Ce l'ho i materiali Andiamo Andiamo Prendiamo il lime Dov'è il lime Una cosa molto importante che vorrei aggiungere Sono crafting table ovunque Scheletra schiatta Voglio aggiungere crafting table A go go Proprio come uno scemo Perché almeno ce l'ho disponibili Advanced panel extender Solo uno Perché Che ti manca Ah i cavi d'oro Ce l'ho l'oro Scusami Oye Tiè Ma quanto Ormai ragazzi Mi sono messo a dubbligare l'oro Ti ho dato un pazzo d'oro Ok 14 Dov'è proprio bastare A voi se bastano Quindi uno qui E uno qui Adesso cambiamo la forma Mettiamo sempre la solida Tutta spanellata in giù Madonna che ficata ragazzi Guardate che casa che sto creando Perlomeno a me piace Non so a voi Ma a me fa figo Ok tu vai qui L'unica cosa Che L'unico problema che ho È il fatto che Eeeh Auto fringe È il fatto che sopra Ci abbiano quella sporgenza Devo coprirli sopra Sti pannelli Mi hanno inventato qualcosa Sì 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 Mi inventerò qualcosa Datemi tempo Abbiate pazienza Ok qui ci mettiamo L'ultimi cosi Questo On Auto fringe Eeeh 1 2 3 4 5 Name NA Amount 0 Perfetto Questo è sconosciuto Perché ancora Vedete il tank è vuoto Qui abbiamo un auto fringe Che è 1 2 3 4 5 Che è un sodio 1 2 3 4 5 E questo è un NA Ok dove è il petrolio Che voglio sapere quanto ne ho Olio Ne ho 11 milioni Abbiamo ancora 8,9 milioni liberi Cioè se prendo un altro pozzo Come quello Riempio il tank Praticamente Molto sempli Ovvio Ci si sta in mente Cacchio ho detto Non lo so Ma era meglio Che non lo dicevo Ok questo lo sposto qua Perché fa più figo È più preciso L'angolo è quello L'angolo è quello Sono gli angoli Intanto mi esplode la sveglia Non ci fate caso Qui c'è un altro angolo Quindi c'è andrà una crafting E qui c'è un altro angolo E c'è andrà un altro crafting C'è crafting table E ovviamente devo rimettere le torce Perché sennò mi spawna il mondo Dentro casa Voglio anche togliere le torce Mi fanno schifo ragazzi Voglio mettere qualcosa di più carino L'unica cosa che ci sono Sono le lampade Quelle vanilla Mi riesco a trovare una lampada Ci credete? Non c'ho una cacchio di lampada Incredibile Comunque Il nostro sistema pannellare Qui è pronto Ci vediamo nel prossimo video ragazzi Spero abbia trovato carino L'ambiente che sto creando Molto Molto simpatico E ci vediamo nel prossimo video Io vi saluto Ciao a tutti Bella ragazzi Anzi sapete che faccio Prima di salutarve? Guardate che faccio Cambio il colore Voglio il bianco Wow che figo Aspetta Metto le scritte nere Wow schermo nero Wow No però è troppo scuro Se lo faccio tutto bianco Ah è lo schermo interno quello Ok no Lo schermo interno bianco è brutto Facciamo lo schermo Che cacchio ho fatto Scusami È il colore del testo No no Non mi piace Bianco Tesi Bianco è meglio Bianco col testo nero Perfetto Sì sì Così si può fare Ciao ragazzi E al prossimo video Bella Schermi bianchi Schermi bianchi Schermi bianchi Sì 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 sì